Buona settimana a tutti. Questa è la passata Pinchas. Questa è la passata di Pinchas. Pinchas era il figlio di Elazar e il figlio di Aaron a Cohen. Pinchas ha ricevuto un patto di pace da Dio, che è diventato anche lui Cohen, che non era prima Cohen, era Levi. Lui ha fatto una cosa che sembra strana. Ha ammazzato un capo di Shimon, uno dei capi di Shimon, della tribù di Shimon. E lo ha ammazzato quando aveva rapporti con una donna non ebrea, Midianit. Davanti a tutti lui ha preso una spada e li ha ammazzati tutti e due insieme. E per quello il Dio gli dà l'espressione di pace, che anche lui sarà un Cohen, e gli dice grazie per aver salvato il popolo di Israele, che aveva in quel momento una piaga. Tanti ebrei stavano morendo. E facendo così, lui ha smesso questa piaga, il Dio si è consolato e ha perdonato gli ebrei. Quello che ha fatto sembra strano, perché parla qui di un'espressione di pace. Parla qui che il figlio del figlio di Aaron a Cohen, che era una persona che era sempre pace, era la cosa più importante nella sua vita, c'è da spiegare perché questo ammazzare un ebreo con una donna non ebrea, che poi avevano rapporti, è un attacco di pace, una cosa di pace. Dobbiamo capire che la Torah non crede nel pacifismo. Il pacifismo non è una cosa ebraica. Noi crediamo che se c'è una cosa sbagliata che sta succedendo nella città, nella tribù, nel campo, si deve essere forti e mettere giù le proprie potenze e spiegare che questo non è accettabile e non si può ricevere una cosa così nelle nostre case, nelle nostre città, nei nostri paesi. Come dice un grande rabbino Ravdinovitz, è meglio vivere poco tempo come un uomo che vivere tutta la vita come una capra. Non siamo capri, non andiamo dietro il gregge, ognuno con quello che sa deve essere responsabile a far vedere, a spiegare al popolo, alle persone vicine a lui, alla famiglia che ha, alla moglie, al marito, ai figli, che certe cose non sono accettabili. e per quello vale la pena anche che, come ha fatto Pinchas, che è andato, che ha ammazzato un uomo con una donna che aveva un rapporto in pubblico. Quello si vede che anche la pace di Aaron è basata su dei casi che si deve anche essere duri e forti in certe maniere. E qui il Dio dice che gli dà l'espressione di pace perché ha smesso la piaga che aveva ammazzato 24.000 ebrei nella piaga che il Dio ha portato perché gli ebrei stavano avendo rapporti con le donne non accettabili. E con questo fatto che ha fatto Pinchas ha smesso la piaga e ha salvato tanti ebrei. e quello ci fa vedere che delle volte si deve essere duri e mettere giù il piede e non accettare cose che si fa nella famiglia, nella città, nel paese dove si vive, dove ti ascolteranno e ti prenderanno nota di quello che si deve fare. Buona settimana a tutti.